Professore, sta perché è fondamentale il passaggio dall'economia della condivisione a quella della conoscenza? C'è stata un'evoluzione dal punto di vista tecnologico, oggi assistiamo all'economia digitale, quindi a uno sviluppo notevole e c'è un'opportunità grandissima per creare una società molto più inclusiva e più equa, ma soprattutto anche l'opportunità di creare più valore aggiunto, di aumentare la produttività e non si tratta soltanto di una ridistribuzione della ricchezza ma anche di un aumento della ricchezza globale, quindi ci sono delle opportunità immense e in Inghilterra questo settore crescerà notevolmente, si aspetta una crescita notevole, entro il 2025 la shared economy sarà in grado di produrre 9 miliardi di sterline, crescerà ad un livello di 9 miliardi di sterline soltanto in Inghilterra, quindi c'è un potenziale veramente notevole. Prima di tutto ringrazio la preside, la dottoressa Giovanna Ferrante per avermi invitata e ovviamente tutte le autorità, penso che sia un momento di conoscitivo, di scambio, di approfondimento per i ragazzi qui, ma anche per me per conoscere di più la realtà abruzzese e quindi come questo settore possa anche svilupparsi in Abruzzo. La dottoressa Costanzo che è una delle personalità più importanti del Regno Unito, delle 24 migliori università del Regno Unito, la Southampton Business School, rappresenta un orgoglio per tutti noi, per tutti noi della regione Abruzzo, ma per tutti coloro che hanno l'onore e la possibilità di conoscerla.